Noi siamo del Rifugio La Cuccia, siamo tantissimi volontari, siamo 50 e abbiamo bisogno sempre più di mani, di forza, perché abbiamo bisogno di tutto, dal cibo, dalle medicine, dall'aggiustare le gabbie, ci sono dei ragazzi che ci aiutano, però più mani abbiamo, più braccia abbiamo, meglio è. Abbiamo parecchi cani, tuttora sono 26-27, abbiamo un problema grosso, questo cane che abbiamo messo sul nostro cartellone, perché deve essere operato, deve subire un'operazione non indifferente a una zampa posteriore e quindi noi abbiamo quest'anno avuto l'idea di, veramente l'ha avuta Aurora, che è una nostra, è la pensatrice del gruppo, che dobbiamo fare una lotteria per cercare di avere il più denaro possibile per poter operare questo cane. Poi il nostro volontariato non consiste solo nell'accudire i cani, ma ci organizziamo, facciamo banchetti, facciamo fiere, facciamo tutto quello che possiamo, nei Conad, a Natale, in tutti i supermercati, per poter raccogliere il più possibile per il nostro canele. Questa sera, appunto, qui c'è di tutto, abbiamo guinzagli, abbiamo, la gente si può sbizzarrire come vuole, abbiamo le magliette che ci rappresentano tutti, tutti quelli che arrivano e che ci danno un contributo per i nostri ragazzi pelosi, come li chiamiamo noi, sono benvenuti.